Sembra procedere verso obiettivi di garanzia e qualità il radar di mercato dell'Arezzo. Con le permanenze di Sabatino e Defendi e quella cercata di Milesi, arrivano altri tre obiettivi che potrebbero essere non così lontani. Il più vicino probabilmente è il difensore Luciani, nell'ultima stagione al Monopoli classe 90 viene da 33 presenze nell'ultima stagione. 35 presenze e dunque grande continuità anche con la maglia del Gubbio. In carriera una presenza in Serie A con la Lazio, poi 47 in Lega Pro 1 con il Lumezzane, 27 con la Salernitana, dove poi è rimasto anche una seconda stagione dove ha collezionato 19 presenze. Per il centrocampo il nome che piace è Salvatore Burrai, che viene dalla stagione alla Siena. È entrato giovanissimo nel Giro delle Nazionali e del Cagliari, squadra con cui ha debuttato in Serie A nel maggio 2007, e è andato poi a giocare, sempre nello stesso anno, con il Manfredonia con 23 presenze. A fine stagione ritornerà al Cagliari, dove disputerà un'altra gara in Serie A, prima di essere ceduto nel 2009 alla Ternana, dove raccoglie solo 5 presenze. Riscattato dal Cagliari, viene nuovamente ceduto in prestito alla Cremonese, la prima di una serie di destinazioni. Foggia, ritorno a Cagliari, Latina, Modena, Monza, Juve Stabia e, appunto, Roburziena. Il nome forte in attacco è quello di Rakid Arma, giocatore di origini marocchine, che negli ultimi anni ha segnato a GoGo. In carriera può contare 128 reti. Una caterva di gol, cominciata con la San Bonifacese in Serie D, dove in tre stagioni ne ha realizzati ben 43 da incorniciare. La stagione alla Spal 2008-2009, 14 reti su 33 presenze. Poi è arrivato il momento della Serie B, con poche apparizioni, con le maglie di Cittadella e Vicenza. Ritorno alla Spal nella stagione 2011-2012, dove si è ancora migliorato. 18 presenze su 34 reti, poi 9 con la maglia del Carpig, allora era in Lega Pro. Pisa, 15 gol nella prima stagione, 16 nella seconda. Nell'ultima stagione faceva parte della Reggiana, 10 le reti su 32 presenze. Il giocatore è ancora sotto contratto con il Pisa fino al 2017.